È una giornata a cui tenevo tantissimo, perché oltre a ringraziare, come ho sempre fatto tutti i nostri dipendenti, tenevo a ringraziare quelli che in qualche modo ci hanno sostenuto, sia acquistando direttamente materiali, sia materiali e attrezzature, sia donando liberamente somme che noi abbiamo utilizzato, tengo a pregirarlo, per l'emergenza. Non abbiamo utilizzato quei finanziamenti per sostituire apparecchiature obsolete e quant'altro, abbiamo utilizzato per comprare strutture che servivano in quel momento. Le donazioni sono state 650 mila euro, le donazioni abbiamo fatto 270 attestati. Di conseguenza molti sono associazioni, quindi probabilmente premiamo solo associazioni, ma dentro hanno parecchie persone. Quindi ringrazio colorosamente perché lo tsunami non ci ha travolto e se non ci ha travolto è anche per merito delle persone che hanno messo mano al portafoglio e ci hanno dato una grande mano. Noi abbiamo sentito la vicinanza di tutta la popolazione, la vicinanza di tutti i donatori che ci hanno fatto rimboccare le maniche anche nei momenti in cui eravamo veramente alla frutta. Quindi siamo in questo momento felici di poter ringraziare tutti quanti coloro che ci hanno sostenuto. Quali sono stati questi momenti più difficili? Suppongo i primi quando ancora non si sapeva bene di che cosa si trattasse. Sicuramente sono stati i primi quando ci trovavamo di fronte ad un virus sconosciuto e quindi i nostri medici, i nostri infermieri si sono dovuti adeguare perché giorno dopo giorno il virus cambiava. Nel senso che a volte era più aggressivo e non ce lo spiegavamo perché. Altre volte invece dava delle sintomatologie molto banali e non capivamo perché in quel caso si presentava in questo modo. Poi i momenti difficili sono stati quando i numeri crescevano verticosamente. Noi ci si raddoppiava i numeri dei pazienti giorno dopo giorni e non sapevamo quello che avremmo vissuto il giorno successivo. Fortunatamente arrivavano attrezzature, ventilatori, abbiamo improvvisato sale di edegenza, sale operatorie trasformate in reparti di edegenza e arrivavano le tecnologie al momento giusto. Devo dire che ci sono stati anche dei momenti in cui abbiamo temuto che non arrivassero in tempo ma fortunatamente ce l'abbiamo fatta. A nessuna, a differenza di tante altre situazioni, abbiamo negato il ventilatore quindi non abbiamo dovuto scegliere tra chi sì e tra chi no. Presidente, tanta solidarietà in questa emergenza sanitaria. Oggi ringraziamento a tutti coloro che hanno dato una grande mano. Sì, la voglia di ringraziare uno a uno, tutti quelli che hanno dato un contributo e sono veramente tanti. È stato uno degli elementi che ha sostenuto, accompagnato un momento così duro, così difficile. Ed è giusto, nel momento in cui noi possiamo guardare con serenità, insomma questa fase che ha concluso la parte più critica con pochissimi casi, poter dedicare questo momento a tutti loro che è un po' dedicato alla nostra comunità perché la solidarietà, la vicinanza rappresenta anche un carattere forte di una comunità che sa ben reagire anche in momenti più difficili. Guarda il futuro con positività quindi? Il futuro va guardato con attenzione perché sappiamo molto bene che questi fenomeni sono a rischio anche di recidività, sappiamo che in giro per il mondo in questo momento in molti paesi il virus continua ad essere aggressivo, quindi bisogna continuare ad essere attenti però certo nelle Marche possiamo vivere questo momento con la giusta attenzione e la giusta serenità.